Signori e miei cari, vi porto questa partita notturna che ho fatto ieri con Ema, ci siamo divertiti, abbiamo nerdato come pazzi. È un'ottima partita, purtroppo l'audio giustamente essendo stato un orario proibitivo è piuttosto basso, quindi vi consiglio di usare le cuffie, ma non è che diciamo cose tanto interessanti. Detto questo saluto Marco Rifiammi e il ritorno di sua maestà principe di Lothric, Zeno Bottinelli Montandone. Signori, buona visione e alla prossima, ciao! Magari! Magari! Ho chiesto da dire a qualcuno! Non sanno contro chi si sono fatti! Falculo! D'aspetta di capire! Fai qua! Come è? E' morto! Sì, infatti mi metto un attimo qua perchè mi ha spaccato da qui. Oh cazzo, io che ho aperto la torretta. Bella. Eccolo qua. Bella. Si può fare il giro. No! Ma vaffanculo, figlio di puttana, ci ha fatto... non sono riuscito a scappare. E ciao, io contro dentro. Maledizione, li hanno eliminati tutti! Mi ha asciuttato con l'attacco in grado. No, con i leader non lo pacciarlo perchè... Shot a Luke, tuttiro, e comunque la mossa lì è così. Cazzo dici? Ho subito il doppiativo schifo. Mh, ma è il tipo... Ma il doppiatore è anche... Eh, bacca puttana, ho beccato da roba. Figo, ho detto giro di lì, non ci sarà nessuno. Figa da roba. Sì, per una volta a getta. Mi ha salvato il putt. Tempo a fare la riuscire a fare il giro, non c'è il giro di problema. No, ma è te vedono. Ma il sentito è vero. Ma è tutto bravo. È va tutto bravo. Ma è tutto bravo. Ma è tutto bravo. Non mi viene a fare la riuscire. io ce l'ho attaccata dietro, eh ti attacca un bagaglio e ti scopri in faccia ecco fatto li abbiamo eliminati tutti adesso faccio Leila via il piano è abbastanza forte però questo vecchio da un pane non c'è abbastanza forte il colpo fortunato è una cosa sulle testa che c'è? non vi piacciono i blaster? possiamo farcela! se nemmeno qualcuno la so questo non so chi sarà un brutto signore sicuramente dopo Dengar non so che credo abbiamo decchio e stanno ancora in pieni sono ancora in pieni sono ancora in pieni sono ancora in pieni sona a sapere siamo ancora in pieni e la sua cazzo non c'è chi è venuta ci sono due colpi arriva, arriva lenta alla terra ma le guardie, le guardie cazzo ma le guardie, le guardie cazzo per capire avanti così siamo qui per vincere arrivando da su, ma Rivido Rivido sta per sparare sono dietro l'arri eh ma ha ucciso cazzo ma ce l'ho visto bravo scappa 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 che ci piaceremo a noi copriotto tu scappa vaffanculo cazzo ero dietro ad Arlega ma mi ha ucciso che palle quando ti seguono che palle quando ti seguono mamma mia quante morte si fa in fronte dell'età con la fine non sopporto gli imperiali vogliono i membri di punto dell'alleanza proteggeteli prendono questa di un pelle mi piace mi piace ma tu c'è un ricorso troppo da sotto da sotto si chi fa il pelle e ma no non indietreggiate c'è che casco che c'hanno guarda facciano un battery in testo schifo si mette a questo dio dio c'è una prima c rido oddio non ci capisco aveva due di vita c'è c'è oh c'è in è una bomba bassa bella vittoria dai dai facciamo l'altro come dai che incredibile sono più fuori prendo leila ancora no no prendi la scimmietta che l'andrò va bene andare a fare il gelataio insieme al bustino quella la skin de la skin che ha messo madonna c'è brutto c'è il bustino un colpo letale da otto chilometri si credo uno dentro il tronco e il grido il grido il grido sta per sparare ma stai caldo non ci renderemo non ci renderemo non ci renderemo ma non ci renderemo e ma dai lui che bello madonna madonna cosa abbiamo creato madonna cosa abbiamo creato mamma mia adesso siamo morti, adesso siamo morti perché c'è l'andro che porta stile mio dio cosa abbiamo creato prima, che aspettate? c'è una torretta che... questo vengare è veramente una spina nel fiume ecco credo, con tutta la gente credo, credo, guardia guardia, madonna dove cazzo siamo? DERNARD VEGAR ma vaffanculo, a me mi ha fatto un po' di danno vai tenete duro ragazzi, no LANDO, LANDO sei una merda, sei la più merda di tutte LANDO porca, non è per essere razzisti, ma fai proprio cagare cazzo, un personaggio di merda mi ha fatto un po' di danno a grid, mi mancherà tipo 10 eh, se riuscissi a... tirare un bel implosorino tutto muore però mi sei sul culo me lo avuto mi piace l'altro ma cosa è INGAR? mi ha fatto una carta isegna mi scordo di prenderlo come facciamoci? per cazzo stanno Ciao bello Salutami il Canada Beh madonna mia Madonna mia ragazzi Madonna santa che Comeback incredibile Mamma mia Comeback notturno Boh incredibile Cambiamo la vita Occhio e facciamo sempre